Per comprenderlo dobbiamo avere il focus su tre personaggi. Il primo sicuramente è Sinuari, il capo terrorista di Hamas che un anno fa lancia il pogrom contro Israele, il più efferrato dall'olocausto, nel tentativo di innescare una guerra di terra contro Israele assieme agli Hezbollah e all'Iran. Il progetto fallisce, Hamas viene colpita pesantemente da Israele e dopo quasi un anno lui è morto. Il grave errore di calcolo del leader di Hamas che ha portato all'indebolimento strategico tanto di Hamas quanto di Hezbollah per aver perso anche lei il capo Nasrallah. Il secondo personaggio è Netanyahu, Netanyahu cattura e elimina Sinuari a Rafiach, cioè la zona di Gaza Sud dove Biden non voleva che lui andasse. L'ex segretario di Stato americano Mike Pompeo commentando l'eliminazione di Sinuari dice per fortuna, grazie a Dio, Netanyahu non ha ascoltato i consigli di Biden, altrimenti il Bin Laden di Hamas sarebbe ancora vivo. Questa è la vittoria strategica di Netanyahu, non solamente sull'avversario Hamas ma anche nel braccio di ferro con l'amministrazione Biden. Il terzo personaggio è Kamenei, come giustamente la domanda pone. Perché? Perché privato di Hamas e di Sinuari, come privato di Nasrallah alla guida di Hezbollah, cosa farà adesso Kamenei? Rinnoverà la sfida militare a Israele oppure no? Le reazioni di questa notte sono state con Tevan che dice che la resistenza diventerà ancora più aggressiva. Hezbollah ha annunciato una serie nuova di attacchi contro il nord ed Israele, quindi l'impressione è che l'Iran voglia rilanciare la guerra, per il motivo molto semplice che l'eliminazione di Sinuari e di Nasrallah la fa parire debole.